Siamo trasmettendo in diretta la sentenza dalla Chiesa di Cristo, la dinamica di Franca Ternato, buona scoppa e buona giornata a tutti. Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Amen. Eccolo il tuo Spirito. Confesso agli onnipotenti e agli fedeli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e da missioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli Angeli e i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo Ti ringhiamo grazie per la tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre e Onnipotente Signore, Figlio del Genito, Gesù Cristo Signore Dio, Agnelli Dio, Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo, accoglie la nostra data Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi Perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore Per l'Ordia, fuori lo Spirito Santo, della gloria immagina Ami Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.